giovedì primo febbraio ci lasciamo questo gennaio alle spalle siamo qui per la segna stampa dalla sede di teleambiente e partiamo subito velocemente la stampa vedete subito allora il punto centrale della stampa che in qualche modo ci sorprende perché non ci sono vicende legate alle prossime elezioni anzi vedete una divertente fotonotizia sulle ombrelline perché anche la formula 1 e quindi credo anche il moto gp qui dice la formula 1 rinuncia a quelle graziose ragazze che appunto con l'ombrellino segnavano le posizioni ma ne parleremo dopo nella pagina sportiva qui ne diamo il riflesso su una sorta diciamo di rivisitazione dei comportamenti e dell'uso anche dell'immagine femminile tutta dopo no gli scandali americani ulliguliani che poi si sono sparsi in tutto il mondo e vedete che qualche aspetto positivo ne cominciamo a godere la crisi ha lasciato oltre 3 milioni di lavoratori in nero si allarga il ricorso al sommerso nel birino l'abolizione dei voucher in tre anni 200 mila in più senza contratto quindi calano diciamo i lavoratori questi è legati diciamo ai libri professionisti calano i lavoratori che insomma stanno diciamo sono emersi no pagano e stanno in regola con tutti i contributi e con le tasse con le partite iva ma in realtà appunto si ricorda sempre di più al lavoro nero e questa è un'indagine dell'istat che segnala appunto una mutazione forte pesante riguardo al mondo del lavoro e non certamente positiva vedete anche però la campagna elettorale si concentra su un aspetto personale legato a berlusconi che ieri ha rinunciato ad andare a porta a porta colto da un malore ma sarebbe sostanzialmente un affaticamento ma certo è che una coalizione di governo che in qualche modo è legata ancora a una persona che vabbè sta scele politica da vent'anni ma insomma che anche una certa età crea delle fibrillazioni a 20 giorni a 20 giorni a un mese diciamo dalle elezioni anche perché come ci dice il sondaggio della stampa che vedete in quel in quel rettangolino camera la maggioranza è un rebus al senato non se ne parla proprio perché passano solamente le larghe intese quindi vedete come diciamo gli analisti del voto i sondaggistici dicano come sono elezioni ancora tutte da inventare e quindi con un febbraio che sarà sicuramente a diciamo molto dinamico e qui abbiamo un berlusconi invece è fortemente affaticato e quindi ha creato sicuramente fibrillazioni nel centro destra ma anche all'interno diciamo delle analisi e dei sondaggisti che devono tenere presente appunto una serie di dati. La notizia interessante è che Blackstone ha comprato i dati della Reuters, ha rilevato il 50% della divisione finanze e rischi per 20 miliardi quindi movimenti forti nell'economia, ne parleremo ulteriormente. Allora lasciamo adesso la stampa e vedete andiamoci sull'avvenire, meno lavoro più nero, questo in realtà del meno lavoro più nero è molto importante perché uno dei punti di forza del governo uscente e anche dei partiti che in qualche modo lo compongono, lo hanno sorretto è che invece col Jobs Act, con i voucher, con le politiche, con le detassazioni insiste a dire ancora il ministro dell'economia Padova, anni posti i lavori sono aumentati e invece al fine 2017 aumentati gli inattivi mentre una ricerca alza il velo su operai, camerieri e soprattutto i colf senza contratto e quindi vedete che è quello che diceva la stampa che in realtà sono aumentati tante situazioni di lavoro sommerso, di lavoro in nero e quindi di falsamente occupati. Lieve calo degli occupati, quindi questo contraddice quello che ci ha detto Gentiloni fino all'altro ieri e disoccupati a dicembre, Censis e Coop crescono a 3,3 milioni gli irregolari, quindi c'è come dicevamo con la stampa un travaso fra lavoratori irregolarizzati e irregolari con aziende che rischiano di pagare in nero perché non ce la fanno, perché poi questa è l'altra analisi che ne consegue, la subordinata che ne consegue. Vedete la fotonotizia Erdogan respinge i profughi, ve lo segnaliamo, non solo vedete questa massa di poveri e disgraziati respinti ai confini della Turchia, ma perché Erdogan domenica verrà a Roma, domenica e lunedì e pare che la Roma Calcio annuncerà anche il nuovo sponsor legato alla Turkish Airlines e quindi ci dovrebbe essere tutto un progetto di questo tipo. Vedete anche Trump cerca l'unità ma insiste sul muro, ma su Trump personalmente abbiamo detto tutto ieri, abbiamo anticipato tutto ieri queste vicende del discorso dell'Unione, ma andiamo adesso sul Corriere della Sera, vedete, allora Corriere della Sera, ritorniamo all'altro tema importante che è appunto il caso dei candidati esclusi che è la notizia che poi approfondiremo durante questa rassegna stampa, ma vedete un po' che vi combina il Corriere della Sera, che ci regala una Melania Trump che scende la passerella del congresso a Washington, tutta vestita di bianco con qualche applauso perché lei scende dalla parte dei repubblicani ovviamente, perché insomma è una signora avvezza alle passerelle, ma la cosa adesso poi la vedremo appena possibile, che la vedremo anche in un video che la regia prontamente ci manderà, ci manderà, e vedetela qui che scende, che scende appunto con questo passo da modella, ecco con questo passo da modella, guardatela eh, si ferma, si becca le applausi, peccato che non ci faccia una giravolta, no? che si faccia vedere la MIS, allora il disco Belania sceglie il bianco, ci dice il Corriere della Sera, perché in questa scelta del bianco ci sarebbe una sorta di critica, perché anche la Clinton scelse il bianco per contrapporsi a Trump e alle sue vicende non certamente cristalline di molestie sessuali di cui più volte il Presidente degli Stati Uniti è stato accusato, quindi pensate un po' come il Corriere della Sera riesce a mettere su in piedi un discorso legato diciamo a questa signora che scende la passarella come una modella, allora io vi dico tutto questo, sentito ieri Trump e l'abbiamo anche sentito con quel suo fare diciamo da ottimista, poi lo diremo ancora, io credo che veramente gli Stati Uniti siano ridotti ad un piazzista e ad una falsa modella fallita, ecco questa è la storia e vi dico anche un'altra cosa cari amici, che accreditare Melania Trump di essere un'eroina delle suffragette americane che si spende e combatte per i diritti delle donne è una bazzecola, è una fesseria colossale da capre per chi lo pensa e per chi lo dice e vi dico anche un'altra cosa in più, che gli Stati Uniti finalmente con Trump e Melania si rappresentano per quello che sono una nazione che non fa i conti ancora con i diritti civili dei neri, che non fa i conti con i poveri disgraziati che cercano lavoro, che cerca di creare muri, che cerca di creare steccati, che non interviene sul clima, che non interviene sulla pacificazione, che si diventa un avversario ridicolo come la Corea del Nord e questi sono drammaticamente gli Stati Uniti e io ringrazio Trump che finalmente ce li rappresenta e non li nasconde sotto questa patina di intelligenza e di perbilismo con cui Obama e Clinton sono riusciti a camuffarli, perché questa è l'America che abbiamo, ora il punto è, l'Europa si può appendere a questa ridicola sceneggiata della signora Trump che fa la modella al congresso? Va bene, allora andiamoci al manifesto che ci dice appunto lo stallo dell'Unione e credo che in qualche modo sintetizzi il discorso che ho fatto, il discorso al congresso sullo Stato dell'Unione Trump recita da Presidente e tende la mano ai democratici, in realtà sono stati 80 minuti di propaganda melenza, interrotta da applausi molto leggeri, abbastanza non significativi, ha rivendicato la cancellazione dell'Obamacare perché lui sa solo cancellare, il taglio delle tasse ai ricchi perché lui ricco è giustamente se taglia le tasse, cosa non ha fatto neanche Berlusconi, così criticato in America, io ricordo tanti polemisti e tanti politicisti americani che dicevano guarda vi siete beccati Berlusconi, beccatevi Trump e il muro antimigrantico del Messico, va bene e poi vedete sopra il manifesto sempre precari nell'Italia stagnante, un affossamento, dicembre ha affossatolo il Jobs Act, questo è l'altro dato, andiamoci adesso a vedere il Wall Street Journal che ci dà questa cosa interessante perché vedete il disastro ferroviario anche negli Stati Uniti, tanto per non farci mancare nulla, il disastro ferroviario ha coinvolto in Virginia un treno di repubblicani che tornavano da Washington e li vedete qui che postano i primi soccorsi e questa è una cosa simpatica, il treno era pieno di deputati repubblicani e di diciamo lobbisti che li seguono e via dicendo e poi vedete anche la vicenda del capo dell'FBI che Trump praticamente ha fatto dimettere e perché continuano le vicende legate all'insipienza presidenziale di Donald Trump e c'è questa questa però diciamo la cosa che noi ci piace come teleambiente, come ambientalisti, come amanti anche se rispettosi, rispettosi e attenti della natura, vedete questa bellissima luna piena sul ponte di Londra perché ieri Londra ci ha regalato appunto una luna piena straordinaria allora io ho detto andiamoci a vedere se l'indipendente ce la regala e l'indipendente ce la regala nel tutto, in tutto il suo splendore, vedete è stata una foto anche bellissima perché è dietro, la luna è dietro il walkie-talkie, vedete quel grattacielo, quello in inglesi lo chiamano walkie-talkie perché ci sembra appunto abbia la forma di un rice trasmittente e vedete questa foto bellissima e straordinaria mentre poi l'indipendente ci ricorda che vedi poi il titolo è Super Moon Rising, Super Luna Ridente ed è bellissima, la natura così è fantastica con questi colori e poi la notizia che il primo ministro è stato battuto su il rifacimento di Westminster, anche lì insomma la me non si è fatto mancare un voto di protesta del governo perché appunto servono sei anni per il restauro, stanno messi bene pure gli inglesi. Bene, allora Repubblica, andiamo a Repubblica e torniamo, allora intanto la fotonotizia, anche questa l'abbiamo detto tutto perché ieri ve l'abbiamo fatto sentire, questo è Joe Kennedy III che prende il nome del patriarca della famiglia Kennedy a cui è stato affidato ieri dai democratici il privilegio di rispondere a Trump in un discorso molto applaudito, il che significa, visto che per esempio i repubblicani quando c'era Obama l'ho detto un arrubbio e poi il rubbio fu uno degli antagonisti di Trump, che Joe Kennedy se le cose vanno come devono andare sarà uno dei possibili candidati contro Trump e noi diciamo vai Kennedy perché ancora le speranze d'Europa sono appesa alla famiglia Kennedy. Ma torniamo alle vicende finalmente elettorali, io so che ne sentivate la mancanza, nei collegi vola il centrodestra, nei collegi si intende uninominali, ma questo l'abbiamo già detto, guardatevi i sondaggi anche su Teleambiente, lo dicono tutti, Repubblica ce lo ricorda ma insomma è una ripetita che non ci aiuta molto. Forza Italia, il CSM indaga sul giudice, vi ricordate la vicenda del giudice che è stato visto alla convention di Forza Italia, e che deve appunto giudicare il fratello di uno dei candidati in campagna di Forza Italia. Berlusconi stanco, stop alla campagna, Di Maio a Londra, sì alle larghe intese, poi si smentisce perché avrebbe detto, ha detto, noi abbiamo cercato di reperirlo ma insomma c'è un solo video e anche abbastanza malmesso in cui incalzato dalle domande, sapete Di Maio ogni tanto poi cerca di dare una rappresentazione più gradevole, più piacevole delle dinamiche anche elettorali, ha detto sì in caso facciamo le larghe intese, ma poi si è immediatamente smentito perché ovviamente qualcuno gli ha detto, ma qual è la larghe intese? L'arghe intese si intende che in caso di necessità si arriva a una gross coalition, in cui il Movimento 5 Stelle si mette insieme a Berlusconi, a Renzi, al PD e via diceva, quindi contraddicendo totalmente, infatti non ci ha creduto nessuno, contraddicendo totalmente quelli che sono uno dei fondamenti del testamento di Grillo al Movimento 5 Stelle e quindi guai. Vedete anche l'altra notizia importante perché una delle leggi che forse hanno in qualche modo dato una coloritura importante alla legislatura e sicuramente hanno fatto dire, sì questa legislatura tra i 5 anni qualcosa l'ha portata e il Biotestamento, lo vedete, però ovviamente come fu per il divorzio, come fu per l'aborto, sempre in Italia stiamo, sempre una cultura oscurantista continua a permanere, non voglio andare oltre, avete capito dove andrei a finire e andrei a finire a Papa Francesco I e al Vaticano, quindi l'avete capito e non vado oltre, il Biotestamento ad ostacoli, una odissea a Bari e a Roma promosse Torino e Bologna, quindi cosa vuol dire? Che già il Biotestamento è all'opera, è funzionale, funzionante, però cominciano ad arrivare le obiezioni di coscienza, cosa vuol dire? Che tu vai negli ospedali, chiedi appunto la possibilità che il fine vita sia lasciato in mano a chi questa vita ce l'ha e a un certo punto decide di farla finita e lì scattano le obiezioni di coscienza, odissea ci dice Repubblica, impreparati a tutto ci dice appunto lì l'editoriale di Chiara Severino e via dicendo, poi vedete sotto la foto di Giochiene di Terzo, sorpresa Trump e stavolta piace all'America e te credo fa il piacione, piace, non è che ci vuole tanta l'eterna sfida, nel destino dei Kennedy e vedete l'eterna sfida, ma su questo come abbiamo detto già tutto abbiamo raccontato e poi nel colonnino finisce con il disegno di Azzelio Vicini che come sapete ieri ci ha lasciato, uno dei commissari tecnici più amati e meno vincenti della storia del calcio italiano. Allora andiamo sul libero, non c'è più scampo, Prodi torna in campo, il vecchio che avanza perché ieri Prodi ha dato questo suo appoggio endorsement a Renzi attaccando liberi uguali, quindi attaccando Grasso, attaccando Bezzani e noi ci sentiamo adesso, Bezzani che gli risponde in maniera molto compita ma molto precisa, vediamo che è opinabile quello che Prodi ha detto perché che Renzi voglia fare il centro-sinistra è un giudizio troppo generoso, io non so su quale base sia fondato perché senza andare troppo indietro, guardiamo i fatti di oggi, noi andremo a votare con una legge sulla quale ci sono stati otto voti di fiducia che Renzi ha fatto con la destra, non con noi. Applicando quella legge Renzi ha azzerato praticamente tutti quelli che parlavano di centro-sinistra e ha messo in Sicilia dei sodali di Cuffaro e di Lombardi, in Lombardia il braccio destro di Formigoni, nel cuore dell'Emilia, Casini e Lorenzin, tutta gente che quando parla di centro-sinistra pensa di farlo con Berlusconi, cerchiamo di capirci, quindi purtroppo non è così, non è così, la spaccatura che si è creata è profonda nel popolo del centro-sinistra. Bene, mi pare che Bersani con molta classe contraddica apertamente le parole di Prodi e dica quello che vanno dicendo i libri uguali da quando sono nati, che insomma è chiaro che il PD si è talmente mutato che questo era necessario. Rimanendo sul libro vedete il riposo del guerriero Berlusconi, perché il libro gli dà questa altra interpretazione è proprio di ricerca di riposo e quindi interpretando questo noi pensiamo serenamente che qualche giorno di riposo se lo prenda per arrivare agli ultimi sette giorni di scoppiettante dinamismo Berlusconiano a raccattare voti da tutte le parti e credo che alla fine così sarà e vedrete che il buon Silvio qualche sorpresa nei sondaggi ce la regalerà. Silvio non va da Vespa, la rissa sulle liste lo ha sfinito e si prepara alla volata finale, quindi va tutto bene, mentre la signora Paola Tommasi a cui noi regaleremo un bel viaggio sull'Atlantico verso gli Stati Uniti ci servirebbe un anno alla Trump e perché non se ne va in America la signora Tommasi, accolti anche 50 terroristi dell'Isis ci dice l'Interpol, ma il viminale smentisce. Questa è una notizia inquietante ed importante perché vi ricordo sempre che a Roma domenica e lunedì verrà il Presidente turco, lasciamo a Erdogan, lasciamo libero, andiamocene sul giornale che mina fendenti a tutto spiano, furbate grilline, mitomani a 5 stelle, ci dispiace non potervi dare il video proprio con le parole di Di Maio, la Merkel sbugiarda Di Maio sulla candidata prodigio, sapete c'è tutta una candidata che si diceva che veniva dall'entourage della Merkel, c'è una candidata anche alla Melania molto appariscente e lui apre alle larghissime intese con Forza Italia e PD e poi le smentisce, Lombardia in bilico, 15 candidati di centrotesta perché questa è l'altra vicenda che sta accadendo e poi vedete palloni gonfiati, Grasse Bonino, il grande blef, superstar sulla carta ma senza voti e allora noi andiamoci a sentire questa straordinaria pallone gonfiato di Emma Bonino che francamente io annovero fra i padri di questa Repubblica, Emma Bonino. È successo che intanto la legge è fatta, è una legge ostruzionistica, una legge complicata, ci ho messo tre giorni per capire come si doveva fare e come dovevamo fare, so per esperienza che fare le liste come dire si arriva sempre all'ultimo minuto, è chiaro che anche la scelta dei candidati spesso sono scelte politiche che vengono fatte, mi ha addolorato una serie di esclusioni, vedo che ci sono grossi problemi anche nel centrodestra di rifescagge, ma insomma non ne usciamo, o si fa una legge doppio turno alla francese, una legge semplice o il sistema inglese, oppure se continuiamo a cinciscare tra mezzo proporzionale però senza le preferenze, col voto disgiunto, non senza voto disgiunto, e in un modo il Senato è tutt'altro, francamente è molto difficile. Bene, allora la Bonino ci dice appunto su questa legge elettorale che è uno dei temi della giornata perché vedete Lombardia è in bilico, 15 candidati del centrodestra, indubbiamente una legge complicata, indubbiamente però una legge andava fatta perché il Porcellum e l'Italicum sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, che vi devo dire, è normale che quando il maldestro, il dilettante si avventura in cose complicate e fa delle scempiaggini, bastava mettere in piedi una legge, come diceva la Bonino, molto semplice, non lo si è voluto e avanti così. Sbarcati in Italia 50 jihadisti, allarme, questo ve l'abbiamo detto, e poi vedete che anche il buon Paolo Guzzanti che riesce sempre a tirare fuori annotazioni ardite e bizzarre, rabbia e orgoglio avrebbe visto nel discorso di Trump, Paolo Guzzanti, tutta l'America si inchina a Trump, noi abbiamo visto che il congresso, metà del congresso, più di metà del congresso neanche se lo filava, Guzzanti non mi costringe a rimandare le immagini del congresso, perché l'abbiamo mandato ieri e non abbiamo tempo da perdere, comunque anche perché è un bel viaggio negli Stati Uniti gratis. Il foglio, vedete, ad Azzeglio Vicini ricorderemo le bellissime e maledette notti magiche del 1990 quando l'Italia era in tutte le nazionali, perché appunto poi vinse la Germania che aveva molti giocatori che giocavano in Italia, come Bremer, l'Inter e altri, e in finale ci andò all'Argentina con Maradona che giocava nel Napoli, poi c'era anche Caniglia e via dicendo, e sì, ci ha lasciato un grande CT purtroppo non vincente, ed è interessante questo fatto di un CT amato pur non essendo stato vincente. Vedete che il foglio continua nella scia, nella tradizione dei giornali del centro-destra ad attaccare, a martellare costantemente i 5 stelle. Casaleggio leaks, documenti segreti sulla truffa della democrazia grillina, e quindi un attacco alla piattaforma Rousseau e tutto, al resto, e tutto quello che appunto dicevamo costantemente, si dice costantemente i 5 stelle. Quel colonnino è interessante, gli infiltrati tunisini, perché praticamente, la denuncia dell'Interpol, dalla Tunisia starebbero arrivando in Italia, terroristi dell'Isis. Però il Viminale smentisce, quindi prendiamo anche per buona la smentita del Viminale e incrociamo le dita, perché non ci resta che questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano invece martella sul PD, ognuno c'è il suo diciamo, l'insider trading impunito, perché c'è la vicenda Renzi-De Benedetti, Perugia indaga sull'inchiesta, quello appunto delle dichiarazioni di De Benedetti che si comprò quelle azioni delle banche popolari dopo che Renzi lo aveva avvisato, è quello un reato e il Fatto Quotidiano continua a dire, ma com'è possibile? C'è un reato visibile, un reato ammesso, confessato pubblicamente e la magistratura nulla fa. E qui è Lannutti, che è anche un amico di Teleambiente e che è anche candidato 5 Stelle, sentito come teste sulla denuncia per il presunto insabbiamento a Roma della soffiata sul decreto delle banche popolari, perché Roma, la procura di Roma avrebbe insabbiato questa denuncia che invece continua a sussistere a Perugia. Vediamo come andrà a finire, sarà uno dei temi ovviamente di campagna elettorale, vedete che il Fatto Quotidiano dedica la prima pagina completamente a questo, da un rilievo clamoroso, oltre poi alle cose che già vi abbiamo detto, impresentabili, Berlusconi stanco, Di Maio smentisce e tutto il resto che va via. Allora, rapida carrellata adesso sui giornali spagnoli, vedete sempre che il mondo insiste fortemente sulla vicenda dello Stato spagnolo che è contro il tradimento di Puigdemont che se ne sta a Bruxelles e che vorrebbe essere eletto Presidente del Parlamento e questa, come vedete c'è un'attenzione forte in Spagna ovviamente, che però scompare totalmente sulla stampa italiana ma anche sugli altri giornali e che comunque non è risolta, questo è un problema centrale per la Catalogna che non riesce a nominare il suo Presidente perché appunto poi emergono altre storie di Puigdemont e continua la vicenda, ma se il discorso è che la Corte Costituzionale ha detto che puoi essere eletto solamente se ti presenti al Parlamento di Barcellona, se però ti presenti ti arrestiamo e quindi la vedo dura come conclusione di vicenda. Andiamo adesso su Le Monde, Le Monde che vedete apre tutto su Papa Bergoglio, la foto notizie pedofilia, l'imbarazzo del Papa e questo è scomparso, anche questo tema è scomparso totalmente dalle nostre, invece dai nostri quotidiani, sapete anche su questo, il Papa nella sua visita ecumenica in Cile è stato accusato di coprire la vicenda, si è prima un po' risentito di queste accuse, dopo di chi si è scusato, aprendo anche un'immagine del Papa che si scusa, una verità assoluta, tornato in Italia, ha mandato un suo inviato in Cile per approfondire la vicenda, un investigatore praticamente ecumenico in Cile e giustamente Le Monde ci dice l'imbarazzo del Papa perché Bergoglio è per la prima volta in una situazione veramente imbarazzante, perché rischia di coprire dopo aver detto che mai avrebbe dovuto coprire, rischia di non rispettare quando da sempre ha detto di voler rispettare il dolore forte di queste famiglie, di questi ragazzi soggetti a molestie reiterate, più volte documentate da parte di sacerdoti. Andiamocene sul sole 24 ore, sanità imprese pronte al nuovo modello USA, vediamo cosa accadrà, boccia la società invecchia a trasformare i costi in opportunità, quindi c'è questo discorso sulla sanità e sul nuovo modello che Amazon, JP Morgan e Buffett hanno lanciato negli Stati Uniti, aziende che si consorziano per pagarsi la sanità da soli, visto che lo Stato è inefficiente, inoperante e se becca pure i soldi che noi gli diamo, cosa che fra un po' è evidente anche qui, visto lo sfascio della sanità, la notizia interessante, la vedete questa colorata, è del Igri Metal, che è praticamente il sindacato tedesco, che torna allo sciopero di 24 ore, non accadeva da 15 anni, questo anche per dirvi come se l'Italia piange, certamente la Germania non ride, perché se la grande Germania della locomotiva tedesca dell'industria ha un problema con il sindacato che va allo sciopero generale di 24 ore e lì li fanno, non si muove paglia, dopo 15 anni perché chiede un aumento del 6%, che il 6% è una cosa forte, vedremo questo scontro, quanto bene farà o quanto male farà se non si metteranno d'accordo? Vi segnalo anche però al MUDEC di Milano c'è questa bella mostra di Frida Kahlo, la compagna di Diego Rivera, sono due fra gli artisti più immaginifici del Messico e qui poi c'è tutta una storia bellissima d'amore e di travagli fra i due che viene anche raccontata da Frida Kahlo, che è una delle più grandi pittrici donne della storia dell'arte. Lascio il sole 24 ore, quindi tutti a Milano, lascio il sole 24 ore, me ne vado sulla gazzetta dello sport, che ci dice che l'Inter è adesso, perché è finita la campagna elettorale, ma non sono minimamente soddisfatti i tifosi dell'Inter in rivolta contro la società. Vediamoci brevemente questo abbraccio di Cutrone e Inzaghi, ce la facciamo velocemente? Ce la facciamo? Eccolo lì, lo vedete, dopo i fatti di domenica con il gol di mano di Cutrone, Inzaghi e Cutrone si sono abbracciati, si sono capiti e Cutrone si spiega amabilmente e Inzaghi diciamo sì, ci credete, ride, ma non è molto convinto, ma l'abbraccio è sempre bello. Chiudiamo con le ombrelline, ce la facciamo a vedere tutte le ombrelline? Facciamo ce le vedere, ecco queste qui sono le ombrelline, non le vedrete più, sono scomparse, Hollywood, Weinstein e tutta la campagna contro le molestie e contro la donna oggetto nel mondo dello spettacolo, almeno ha portato risultato. Vi saluto, ci vediamo fra dieci minuti sulla rassegna stampa e il Tg regionale. Bene, allora noi siamo arrivati a fra dieci minuti.